Con l'USIGRAI c'è stato un riavvicinamento in questi giorni oppure no con il sindacato dei giornalisti? No, mi pare che il comunicato che abbiano fatto renda molto difficile un'idea di avvicinamento, anzi divarica le posizioni tra i giornalisti e i lavoratori dipendenti della RAI. Noi continuiamo a sostenere necessario lo sciopero della RAI perché consideriamo che sottrarre 150 milioni delle quote del canone che dovrebbero andare alla RAI e la vendita di RAIWay rappresentano un indebolimento di quell'azienda pubblica mentre invece noi pensiamo che quell'azienda ha bisogno di una grande pulizia e di ricondursi a una gestione ordinaria e non della politica e questo lo si fa per esempio abolendo le tante consulenze e i tanti che sono a libro paga della RAI e non lavorano quotidianamente nella RAI. probabilmente si ottengono anche più risorse di quelle che non siano il taglio del canone, lo si fa provando a ragionare seriamente di quanto costa alla RAI l'esternalizzazione di tante produzioni che aveva inventato la RAI stessa e quindi crediamo che vada fatto un serio piano industriale e non un processo di indebolimento della RAI. Ma l'hai dato una risposta del perché? Per tornare al discorso della RAI, il sindacato dei giornalisti è così distante da quello degli altri lavoratori dipendenti? Credo che debba domandarlo al sindacato dei giornalisti. Grazie